Linea dura contro i nomadi che non rispettano le regole. L'amministrazione parla chiaro. Oggi pomeriggio l'assessore Rotondi ha firmato un'ordinanza contro i nomadi che non rispettano le norme del Comune di Vicenza. Siamo qui con l'assessore Rotondi, assessore della sicurezza del Comune di Vicenza. L'ordinanza parla chiaro. Toleranza zero verso i nomadi che non si comportano bene all'interno del Comune di Vicenza, in particolar modo Vicenza-Ovest. Sì, tolleranza zero è un modo di dire che è entrato nell'uso comune, è la tolleranza che è dovuta alle leggi, che ovviamente non può essere condizionata da altre considerazioni. In questo senso possiamo parlare di tolleranza zero. Certo, appunto in particolar modo non verso tutti i nomadi ma solo verso chi non rispetta le norme. Giusto? Quanti sono? Quanti ne avete segnalati? Questo senz'altro. Noi abbiamo individuato una serie di nuclei familiari che non hanno rispettato le norme. Ripeto, le norme che non hanno rispettato vanno anche molto indietro nel tempo. Quindi non è soltanto quello che è successo pochi giorni fa. Si va a vedere anche la storia di certi nuclei familiari, di certe persone che hanno accumulato anche precedenti penali. Hanno accumulato una serie molto lunga di violazioni amministrative. Quindi è una ricerca che è basata su dati di fatto incontrovertibili. L'ordinanza sarà posta in essere fino al 30 settembre. Poi appunto avrete intenzione di rinnovarla? Queste ordinanze devono avere necessariamente una durata e quindi in base a quello che succederà in futuro noi ci comporteremo fino al 30 settembre. È sicuro così. Se c'è bisogno di fare aggiustamenti, modifiche di qualsiasi tipo le faremo a seconda, ripeto, di quali saranno le reazioni di queste persone che non volendo rispettare la legge ci costringono ad adottare provvedimenti che sono necessari, indispensabili, come ci è stato fatto presente dalla popolazione.